Sulla croce Gesù perdona tutti e la sua salvezza è per tutti, anche per chi ha fatto le cose più brutte nella vita, se si avvicina a Gesù pentito e con la voglia di essere abbracciato. Lo ha ricordato Papa Francesco nella Catechese dell'Udienza Generale tenuta in piazza San Pietro dedicata al perdono sulla croce. Commentando il colloquio di Gesù con i due malfattori crocifissi con lui, raccontato dall'Evangelista Luca, il Papa ha sottolineato che morendo in croce, innocente tra due criminali, Gesù attesta che la salvezza di Dio può raggiungere qualunque uomo in qualunque condizione, anche la più negativa e dolorosa. La Chiesa non è soltanto per i buoni o per quelli che sembrano buoni o si credono buoni. La Chiesa è per tutti e anche preferentemente per i cattivi, perché la Chiesa è misericordia. E questo tempo di grazia e di misericordia ci fa ricordare che nulla ci può separare dall'amore di Cristo. A chi è inchiodato su un letto di ospedale, a chi vive chiuso in una prigione, a quanti sono intrappolati dalle guerre, io dico, guardate il crocifisso. Dio è con voi, rimane con voi sulla croce e a tutti si offre come salvatore. Lui ci accompagna, tutti noi, a voi che sofferte tanto, crocifisso per voi, per noi, per tutti. Il buon ladrone che riprende il compagno quando insulta Gesù, ha proseguito Francesco, offre un meraviglioso modello di pentimento. Manifesta il suo timore filiare di Dio, che non è paura ma rispetto. Poi dichiara l'innocenza di Cristo e confessa apertamente la propria colpa. E infine si rivolge a Gesù chiamandolo per nome e invocando il suo aiuto. Gesù, ricordati di me. È il bisogno dell'uomo di non essere abbandonato e così un condannato a morte diventa modello del cristiano che si affida a Gesù. Nella sua risposta, oggi sarai con me nel paradiso, Cristo, volto della misericordia del Padre, rivela il compimento della sua missione, salvare i peccatori.